Buongiorno, sono Marco, uno dei fondatori Maisurable. Questo è il team. Siamo professionisti di lunga esperienza nei settori chiave della società medico, tecnico e di management. Maisurable è una startup innovativa partecipata dall'Università di Bologna attraverso AlmaCube. E affronta uno dei problemi più gravi del nostro tempo, l'invecchiamento progressivo della popolazione. Con la mission di offrire soluzioni efficaci e innovative per la gestione delle difficoltà date dalla crescita di questo fenomeno. E' quello che chiamiamo con un'espressione colorita Silver Tsunami, una vera e propria onda anomala di over 65 anni che ha superato il 22% della popolazione in Italia. La grande sfida è quella di aggiungere salute agli anni, con impatto sulle persone, sulle loro famiglie e sul sistema paese. Il contributo di Maisurable è in primo luogo misurare la funzionalità muscolare, perché a questa sono riconducibili quasi tutte le cause della fragilità correlata con l'età. La perdita eccessiva di massa muscolare in relazione all'età è un processo che resta a lungo invisibile e asintomatico. Peggiora la qualità della vita e può condurre alla disabilità. Identificarla, misurandola, è il primo passo necessario per prevenirla e curarla. Si può misurare così. Ma ora anche con mio test. MioTest è semplice, di basso costo, non invasivo ed eseguibile da personale non sanitario. Integra in un software cloud la punta più avanzata della letteratura scientifica, ma soprattutto è un programma che impara dai test eseguiti, diventando sempre più preciso e affidabile nell'affiancare gli approcci terapeutici. Ed è ampiamente accessibile a tutti. Il risultato identifica lo stato di salute muscolare, ma fornisce anche indicazioni su come mantenersi in forma, in particolare sull'alimentazione, sull'integrazione alimentare e sull'attività fisica, e comportamenti quotidiani adeguati a mantenere la massa muscolare. Per la sua diffusione siamo partiti dalle farmacie, perché in farmacia gli anziani si recano regolarmente, almeno una volta a settimana, con fiducia. Dottor Ludagnani, cosa vi ha convinto del sistema MioTest? Abbiamo creduto nel MioTest perché è un esame semplice, con attendibilità scientifica, e che può essere applicato a moltissimi dei clienti delle nostre farmacie. L'impatto sociale ed economico di Maisurable è di grande rilevanza, sia perché migliora la qualità della vita delle persone, sia perché contribuisce a ridurre i costi per il welfare. Non dimenticando le ricadute positive in ambito scientifico e più in generale terapeutico. Ma anche risultati economici e ritorni finanziari importanti, se solo immaginiamo le proporzioni che ha questo business, che coinvolge oltre 13 milioni di persone, over 65, solo in Italia. Per sviluppare capillarmente l'enorme potenziale sociale, economico e finanziario di Maisurable, ci rivolgiamo a voi. Aiutateci a crescere. Aiutateci ad aggiungere salute agli anni. Aiutateci a crescere.